Il direttore diceva poco fa che lo statuto dei diritti dei lavoratori è vecchio, la costruzione è ancora più vecchia, ma io penso che la costruzione e lo statuto dei diritti dei lavoratori siano tra i punti più alti che la civiltà del lavoro ha toccato. Non sempre quello che viene dopo è meglio di quello che viene prima, in questo caso quello che è avvenuto dopo è drammaticamente peggio di quello che c'era prima. Il lavoro. Ora, noi siamo, quello che sta per dirvi è assolutamente minoritario, iperminoritario, perché noi tutti siamo avvolti in questa ideologia della innovazione, della scienza e della tecnica. Secondo cui, diciamo, internet, il lavoro virtuale, le nuove forme di comunicazione, tutte esistenti, avrebbero cambiato a tal punto il panorama sociale da fare pressoché scomparire la nozione di lavoro. O meglio, di fare scomparire con la nozione di lavoro la nozione di sfruttamento e di alienazione. Questa è grossa, tanto che a un certo punto, quando la globalizzazione si annunciava, a proposito, ma voi vi ricordate cosa veniva detto agli inizi della globalizzazione? Vi ricordate tutta la cultura apologetica? Tutto il parlare sarebbero venuti, era una cornucopia da cui sarebbero usciti beni, ricchezze per tutti, avremmo perso il lavoro faticato e avremmo trovato il lavoro liberato, non avremmo avuto più le fabbriche e i lavori duri, violenti nelle fabbriche, avremmo avuto invece un lavoro leggero, tutto formato dalle comunicazioni, perché tanto le macchine, la robotizzazione avrebbe sostituito il lavoro faticoso, ricordate, e saremmo andati tutti verso un regime di benessere prodotto dall'innovazione tecnologica? Oggi, non un vecchio sindacalista, la NASA e il Fondo Monetario Internazionale commissionano degli studi in cui si chiedono se la globalizzazione non si sia rovesciata nel suo contrario, determinando riduzione dei salari e crescita della disoccupazione. Ripeto, non io, la NASA, il Fondo Monetario Internazionale, che sono ormai inquieti per questa distruzione di umanità nel lavoro. Quando mai noi abbiamo avuto una popolazione così senza diritti come i giovani nel lavoro e fuori dal lavoro oggi in Europa? Quando mai? Un giovane può essere definito precario, tu sei giovane, precario, sei sicuro che sei precario, o sei disoccupato proprio, allora sei stabile, se no sei precario. Non c'è verso. Poi, una volta proprio sul lavoro mi prendono delle crisi di nervi proprio. Esempio, una di queste, ci arriva vicino anche una persona che stimo tantissimo, come il direttore che è qui accanto, davvero tantissimo, in confronto di quale è un vero rapporto di amicizia. Questa storia dei lavoratori protetti. Per cui sì, è vero, i giovani sono precari, sfigati, come dicono loro, però la colpa è di quelli che sono protetti, che sono egoisti, se vogliono tenere lo strutto dei diritti dei lavoratori, le protezioni, i diritti. Ma diritti di che? Ma quante donne e uomini a 45-50 anni sono stati licenziati o hanno avuto chiuso la fabbrica? E dove lo trovano un altro posto di lavoro a 45-50 anni? Allora prendiamo le cattedrali della sicurezza. Ma voi vi ricordate 30 anni fa, quelli che di voi c'erano 30 anni fa, vi ricordate cosa era un hostess o uno steward? Non dico un pilota, no, un hostess o uno steward. Sembrava una principessa o un principe regale. Ovvero, oggi questi stessi signori iperprotetti vengono messi sull'astrico e licenziati dall'Alitalia, o mi sbaglio. E non hanno neanche una protezione futura. Una volta avevano la cassa integrazione, gli dicono adesso, ma cassa integrazione? Un privilegio assoluto. Ti licenziamo e ti mettiamo in mano un'agenzia che ti troverà il posto di lavoro. Dove? Come? Chi? Allora, cosa è successo? Perché è così? Non ci sono più gli operai, sento dire? No. Nel mondo, perché ormai la globalizzazione è il mondo, è vero? Non ci sono mai stati tanti operai, non dico lavoratori, operai come adesso, mai. Nella storia dell'umanità così tanti non ce ne sono stati mai. Solo che una volta erano meno, ma forti. Adesso sono di più tanti e debolissimi. Anche perché una volta erano le fabbriche che dovevano andare dove c'erano i lavoratori. Adesso invece le fabbriche vanno dove vogliono. Si delocalizzano. E tu puoi avere qui una fabbrica a cui sono legate tre generazioni e ti saluta e vai in India, piuttosto che in Bulgaria, piuttosto che in Romania. E questo avviene perché la politica dei governi ha lasciato mano libera. Ma veniamo a cose più ravvicinate e finisco rapidamente. In quel periodo, direttore, grosso modo, facciamola breve, l'Italia è un paese povero, finisce la seconda guerra mondiale, siamo un paese povero, alto tasso di disoccupazione, povertà diffusa, prevalentemente un paese ancora agricolo, a cenni di agroindustriale ma sostanzialmente agricolo, paese povero. Noi all'inizio, alla metà degli anni Sessanta, questo paese povero diventa uno dei primi cinque paesi industriali del mondo. Uno dei primi cinque. E ci avviciniamo a un regime di piena occupazione, ci avviciniamo. L'Italia che non aveva avuto grandi riformatori nei secoli precedenti, noi non abbiamo avuto la fortuna di Bismarck, o di Beveridge, no, non ce ne avevamo. L'Italia si avvicina alla Costituzione, con delle riforme sociali che noi in Italia non avevamo mai conosciuto. Vogliamo ricordarne qualcuna? Adesso ce le hanno così massacrate che non ce ne ricordiamo neanche. Ma il sistema pensionistico in Italia viene introdotto per la prima volta negli anni Sessanta. Prima non c'era. Prima se tu diventavi vecchio, o ti accudivano i figli, oppure non c'era salvezza per te. Il contrario di adesso, che sei tu che accudisci ai figli, ai nipoti, perché altrimenti loro non hanno salvezza. Adesso. E hai conquistato un sistema pensionistico, per tutti, universale, cominciando ai lavoratori. Poi conquisti il servizio sanitario nazionale. Il diritto, cioè, è essere curato indipendentemente dal tuo reddito. Poi conquisti lo statuto dei diritti dei lavoratori. Io ho fatto il sindacalista prima dello statuto dei diritti dei lavoratori. Quando in fabbrica non potevi entrare. Quando i lavoratori in fabbrica non avevano diritti. E a proposito dell'articolo 18, così... L'articolo 18 impedisce il licenziamento che non sia per giusta causa. Io, si alzi, uno che mi spieghi che è giusto licenziare senza un giusto motivo. Me lo spieghi qualcuno. Ma dov'è la ragione? Senza giusta causa. Quando sempre prima dell'articolo 18 c'era il licenziamento, sapete che i giuristi usano il latino, ad lutum, che vuol dire che potevi essere licenziato con un cenno della mano. Non c'era bisogno di giustificazione. Ti diceva sei licenziato. Finita la storia. Lo statuto dei diritti dei lavoratori introduce un principio di civiltà giuridica. Tu mi vuoi licenziare? Motivi? Mi dai una giusta causa e lo fai. Se non hai la giusta causa non mi licenzi. Per potere in qualche modo proteggere l'impresa si fece un compromesso. Che questa legge valeva solo sopra i 15 dipendenti. E' vero? Sopra i 15. Perché si diceva in una piccola azienda come fai? Giusto per esporvi la mia tesi. Secondo me invece andrebbe esteso a tutti. Perché? Altro che eliminazione dell'articolo 18. Io sono per l'estensione dell'articolo 18 a tutte e a tutti. Tu mi licenzi. Tu puoi licenziarmi. Ma devi motivare una giusta causa. Non è che non puoi. Togliamoci dalla testa questa cosa. Ha davvero fuorviato. Non è vero. Tu puoi licenziarmi. Ma devi avere una giusta causa. Bene? Abbiamo conquistato quella civiltà. E possiamo andare avanti? Benissimo. A un certo punto quella storia si interrompe. Non potendola far lunga cito solo dei nomi che a tutti vi dicono qualcosa. Reagan, la Thatcher, i 35 giorni. Cioè cambia il corso della storia. E comincia una politica che demolisce quelle conquiste. Lentamente, progressivamente. Qualcuno di voi se la ricorda? Scala mobile. Prolungamento dell'età pensionabile. Privatizzazione della sanità. Ma forse la più grande delle conquiste che abbiamo realizzato in quel ciclo delle lotte scendenti fu la scuola pubblica. E per la prima volta in Italia, nel corso di tutta la storia italiana, la possibilità per figli di povera gente di andare a scuola. La possibilità per la prima volta nella storia le figlie di un lavoratore o di un piccolo commerciante di poter andare allo diversità. E' stata la prima volta nella storia e anche questa, vi ricordo la lezione di Don Milani di questo straordinario sacerdote che con lettere a una professoressa ci insegnò cosa voleva dire la discriminazione di classe a partire dall'infanzia. Quando io sono andato a scuola la discriminazione era organica. come torna a essere, come torna a essere. Alla quinta elementare si doveva scegliere tra le medie, l'avviamento e le commerciali. E solo in un caso potevi accedere ai corsi superiori, negli altri era chiuso per sempre. Adesso viene chiuso dalla condizione di impoverimento e dalla perdita di valore del titolo di studio. Perché una volta che anche ci sei arrivato poi non puoi lavorare e quindi anche per quella via viene demolita la scuola. Benissimo. Perché è successo, caro direttore? La risposta, secondo me, l'ha data non un proletario, non un uomo della sinistra ma uno degli uomini più ricchi del mondo. Credo siano i primi tre. Warren Buffett. Dice, mi dicono, ha detto Warren Buffett che non ci sia più la lotta di classe. Non è vero. C'è stata e c'è una guerra di classe. Solo che l'abbiamo vinta noi. L'hanno vinta i ricchi. Questo è il punto. L'hanno vinta i ricchi. Oggi guardate, finisco con questo dato perché è veramente impressionante. Quando c'è una crisi economica tendenzialmente stanno peggio un po' tutti. Più o meno. Tu stai peggio perché sei licenziato lui peggio perché gli affari gli vanno meno bene l'altro peggio. Questa volta è la prima volta che non accade così. Non accade così. C'è un impoverimento pressoché generale ma il 10% della popolazione più abbiente ha migliorato la sua condizione di reddito mentre tutti gli altri l'hanno perso. Il 10%. L'1% l'ha addirittura moltiplicata lo 0,1% più ricco l'ha decuplicata. Quindi come dicono quelli di Occupy Wall Street i giovani americani noi 99% voi 1%. Cioè l'1% della popolazione si è arricchito a strafottere nel pieno della crisi. se non è questa la lotta di classe non so quale sia la lotta di classe. Prima di lasciare la parola al pubblico per qualche domanda a Bertinotti Presidente insomma vista la